My Home, My Destiny, anticipazioni di venerdì 17 novembre, dove vedremo Zeynep fare di tutto per scarcerare Meti, ma Baris diventare sempre più sospettoso. Finito di visitare le possibili case per Baris e Savas, Osmel decide di riaccompagnare Zeynep a casa. Sembra proprio che Zeynep abbia conquistato la sorella di Baris, ma la sua indole sospettosa e giudicante la porta comunque a continuare ad indagare sulla vita di Zeynep. Oslem e Zeynep arrivano a casa, ad accoglierle è Sakine e subito Zeynep spiega chi sia, la sua madre biologica, notizia che spiazza Oslem visto che pensava che fosse Nermin l'unica madre di Zeynep. Piano piano vengono fuori anche le altre abitanti della casa, prima di tutti Kibrit che è stata richiamata proprio da Sakine, che sembra voler subito far sapere alla sorella di Baris la situazione familiare di Zeynep. La stessa Zeynep non si tira indietro e presenta a tutti Oslem. La piccola Mushgan, sua madre Benal, Gemile e Nermin. Oslem è palesemente contrariata dallo scoprire questa situazione complicata, nonostante non ne sia completamente informata. Le poche informazioni che ha si riducono alle secche presentazioni fatti da Zeynep e dal fatto che Kibrit, Gemile e Benal fossero molto emozionate per l'allivo di una lettera di meti dal carcere. Oslem, ancora più sospettosa e contrariata dalla situazione, decide di tornare a casa e, in macchina, cercando su internet informazioni su Zeynep, scopre che è stata rapita dal suo ex marito, al momento in prigione. Nel frattempo, Zeynep e Nermin si dispiacciono per come sia andato il primo incontro con Oslem, ma lo stesso non si può dire di Sakine, che invece sembra essere soddisfatta della pessima impressione fatta alla sorella di Baris. Nel frattempo, in carcere, il piano di meti e l'anziano per incontrare Wessy diventa più chiaro. Cercheranno di far spostare dei loro compagni di cella fino a quando lo stesso Wessy non verrà trasferito nella loro stessa cella. Infatti, di punto in bianco, l'anziano colpisce un altro detenuto che chiede subito di essere trasferito da un'altra parte. Meti e l'anziano attendono così, con impazienza, che, in sostituzione di quel detenuto, arrivi Wessy. Tornata a casa, Oslem è furiosa. Subito accusa lo zio, Baris e Savas di averle descritto una Zeynep perfetta come un diamante e invece è tutt'altro che un diamante. Chiede spiegazione a Baris e tutto quello che scopre, invece di tranquillizzarla, la fa infuriare ancora di più. Come può essere un diamante una ragazza cresciuta da una donna che era il capo della sua madre biologica, che ha sposato un uomo violento, che condivide la casa con l'amante dell'ex marito e la loro figlia, che condivide con diverse donne che dipendono da lei, comprese le tue madri. Oslem, infatti, teme che Zeynep abbia messo gli occhi su Baris affinché lui stesso possa assumersi la responsabilità di aiutare tutte queste persone che dipendono da Zeynep. Lo conferma il fatto che abbiano assunto Sultan ed Emine come lavoratrici in casa. Baris cerca inutilmente di tranquillizzare la sorella, spiegandole le qualità e le doti di Zeynep, ma ogni parola aggiunta da Baris non fa altro che preoccupare ancora di più la sorella. Scoprendo poi che anche il padre di Zeynep ha il suo carico di problemi, ovvero la dipendenza dall'alcol, Oslem non può che agitarsi ancora di più e, perentoria, afferma che non vuole che lui e Zeynep si leghino in alcuna maniera. Baris non accetta che la sorella decida o metta bocca sulle sue decisioni e chiude bruscamente la conversazione. La sera, a casa di Zeynep, Gemile continua a preoccuparsi per lo stato d'animo e la situazione di Meti. Nel frattempo, Nu è sempre più triste e abbattuto per il fatto di non riuscire a trovare lavoro e la situazione di impotenza in cui si trova non gli dà pace. Zeynep, per tirarlo su, gli dice che Baris ha accettato di farlo diventare il suo autista. La notizia, però, non trova favorevole Gemile. Nu non può ricevere aiuto da Baris perché questo ferirebbe e farebbe arrabbiare Meti. Nu, però, ne ha abbastanza di annullarsi per assecondare i desideri di Meti. Spiega alla moglie quanto lo faccia soffrire essere disoccupato e la fa riflettere sul fatto che loro hanno effettivamente bisogno di uno stipendio, che non può essere esclusivamente quello di Zeynep. Gemile, però, continua a mettere al primo posto sempre solo Meti. Nu, allora, si lascia andare ad un lungo sfogo. Quali sarebbero esattamente i suoi obblighi nei confronti di Meti? Più volte tutti lo hanno pregato di lasciare in pace Zeynep, di comportarsi degnamente e di rispettare i suoi obblighi morali e legali, ma lui ha comunque infranto la legge, a causa sua hanno perso i loro risparmi, il lavoro e la casa, e perché adesso Nu dovrebbe rinunciare ad un lavoro e ad uno stipendio. Gemile zittisce il marito, non è ancora pronta a sentire accusare l'amato fratello davanti a tutti, e Nu si zittisce non rimangiandosi però quanto ha detto. Baris arriva di fronte casa di Zeynep e la chiama per poter parlare. Zeynep capisce subito che ci siano stati dei problemi con Oslem, ma spiega subito a Baris di essere sollevata di aver detto la verità a sua sorella. Per troppo tempo ha nascosto alle persone la sua situazione familiare e non è mai stato un bene, motivo per cui non commetterà di nuovo gli stessi errori. Baris è fiero dell'atteggiamento di Zeynep e le rinnova la purezza del suo sentimento. Fin quando saranno sinceri tra loro, niente li potrà separare. È la prima volta che Baris parla di un noi a Zeynep. Lei ne è lusingata ma anche preoccupata. Infatti sta ancora nascondendo a Baris di essere l'avvocato di Meti. Gemile e Benal vanno a trovare Meti in carcere. Questa è anche l'occasione per passare un po' di tempo con la piccola Mushgan. Sembra sereno nello stringere tra le braccia sua figlia. Così sereno che Gemile non lo informa di tutti i problemi che hanno colpito la sua famiglia. Anzi, lo rassicura dicendogli che presto avrà i soldi che gli servono. Meti è infatti ancora convinto che Nu lavori al negozio e che gli affari procedano bene e non può assolutamente immaginare che sia il negozio che la casa siano andati perduti. Infatti Gemile descrive la vita familiare all'esterno del carcere in maniera completamente distorta. Kibrit continua brillantemente gli studi quando invece lavora come cameriera. L'azienda alimentare creata con Sultan va a gonfie vele mentre Sultan cucina solo a casa di Baris e Gemile ne è rimasta esclusa. Zeynep è molto fiduciosa per la risoluzione della causa e Nu continua a lavorare al negozio quando invece Zeynep è sempre più preoccupata per la causa e Nu ha cominciato a lavorare come autista per Baris. Meti rimane molto lontano dalla verità e per Gemile è meglio così. Savas ed Emine aspettano al ristorante Zeynep per discutere il caso di Meti. I tre però hanno pochissimo tempo perché Baris a momenti li raggiungerà. Zeynep spiega di non aver trovato le registrazioni del carcere utili per discolpare Meti e che l'unica possibilità di convincere Bekir a testimoniare al loro favore sia pagare l'intervento della figlia situazione tenuta in pugno da Weissi che aveva ingaggiato Bekir proprio con la promessa di pagare l'ospedale per la figlia. Savas propone due soluzioni. Cercare altre riprese, anche audio del carcere e pagare lui stesso l'operazione della figlia di Bekir così da liberare l'uomo dal vincolo con Weissi e convincerlo a testimoniare la verità in favore di Meti. Dopo un'iniziale titubanza, Zeynep accetta l'aiuto economico di Savas e la discussione si interrompe non appena arriva Baris. L'incontro tra i quattro termina con una strana Zeynep che informa Baris di dover accompagnare Kibrit alla lezione di violino e che farà tardi al lavoro. Nel frattempo, in ospedale, gli agenti di polizia chiedono ai dottori quando potranno interrogare Bekir. L'uomo si sta riprendendo e potrà essere sentito il giorno dopo. La conversazione viene ascoltata dagli uomini di Weissi ancora in ospedale proprio per sorvegliare che Bekir non testimoni a favore di Meti. Finito l'incontro con Zeynep e gli altri, Baris decide di non andare subito in ufficio e dice al suo nuovo autista Nu di accompagnarlo da un'altra parte. Zeynep ha mentito, non ha accompagnato Kibrit a nessuna lezione, si trova invece in carcere da Meti a discutere la sua causa. Lo aggiorna sugli sviluppi del caso, spiegando che ha trovato il modo di pagare l'operazione della figlia di Bekir e convincerlo così a testimoniare in suo favore. Meti ci tiene a spiegare a Zeynep che assolutamente non vuole che sia Baris a risolvere questa situazione economica e lei lo rassicura che così non sarà. Meti la informa su ciò che ha scoperto in carcere riguardo la vita dell'uomo che ha pugnalato Bekir, Erjan. Ha un fratello di nome Asid e una moglie che si chiama Cardigan. Zeynep è abbastanza fiduciosa sul fatto che riuscirà a scagionare Meti prima che a lui servano altri soldi per raccogliere informazioni in carcere. Lui però ribadisce il fatto che i soldi gli servono e gli serviranno ancora. In ospedale una persona ignota entra nella camera di Bekir e manomette i macchinari che lo aiutano a sopravvivere. Baris e Nu sono arrivati nel posto in cui l'avvocato pensa si possa trovare Zeynep. Infatti sono davanti al carcere, Baris ha intuito che lei gli abbia nascosto qualcosa ed è intenzionato a chiederle spiegazioni. Mentre i due la aspettano fuori dal carcere, Zeynep, inconsapevole, cammina verso l'uscita. Terminano così queste anticipazioni, ci aspetta un confronto tra Baris e Zeynep dopo che lui le ha aperto il suo cuore. Io sono Stefania, come sempre vi racconto la storia di My Home, My Destiny, quindi se vi va continuate a seguirmi, lasciatemi un commento o mandatemi un mi piace. Vi mando un abbraccio e a presto!